però c'è il papà, c'è il suocero che sta molto male purtroppo e quindi oggi non è potuto venire ma non c'è la figlia che deve mandare una cosa, non essere un avvocato mi ha telefonato stamattina grazie popolo grazie c'era una storia con la sua segretaria io ho un'idea per la ricordare di un'idea è a sete Bastian e Elisa, per la ricordare di Bastian e Elisa aveva sempre una miniconna al portare il dono una cosa semplice ho tipo queste tovaglie e portava sempre questa miniconna con un ferro di marco era l'alter ego di Angela Nardi mi ricordo che Marcello Marchi faceva sempre cadere la penda per vedere aveva un eco molto grosso erano piccoli particolari Budini Marcello molto bravo Budini Marcello era molto bravo poi abbiamo casetta Gianni dica presente se c'è casetta Gianni stai morto casulla Donatella ha fatto il film con Fellini la scena del letto la città delle donne la città delle pompe la città delle pompe la città delle pompe la città delle pompe però non so Grazie per la visione!